Bentornati nel canale ragazzi, io sono Eugenio Ciullo e in questo video voglio farvi vedere un po' dei cambiamenti. Infatti ho preso una casetta in affitto e finalmente ho una stanzetta che posso dedicare al lavoro, al cazzeggio e c'è anche una parte del laboratorio che adesso vi farò vedere. Cominciamo dalla scrivania, ho preso questo monitor da 34 pollici che è un Samsung, è una fegata colossale, è un monitor HD e ha la particolarità che posso collegare due sorgenti ovvero il notebook che utilizzo per lavorare e la bestia del computer fisso che ho dietro nella postazione di guida, che utilizzo per cazzeggio. Qui sotto c'è la sound bar con il suo bufere sotto la scrivania. La scrivania è lunga 1,80 m e spessa 3 cm, infatti è una misura fuori dagli standard. La cosa figa di questo monitor è che le sorgenti le posso far lavorare insieme. Infatti attivando questo PIP-PP posso utilizzare tutte e due le sorgenti nello stesso momento e infatti adesso vedete sulla prima metà il computer fisso, sull'altra metà ovviamente è nero perché è spento, la sorgente in questo caso del notebook o altrimenti posso scegliere o una sorgente o l'altra. Io ovviamente utilizzo sempre, diciamo nella giornata lavorativa, sempre solamente quella del notebook perché è quello con il lavoro, mentre la sera quando devo fare qualche disegno particolare oppure qualche lavoro particolare per me. Una cosa molto comoda del display a 34 è che ti facilita tanto, ad esempio io quando disegno con CAD oppure confusion ti facilita tantissimo il lavoro essendo che il monitor è molto più largo rispetto a un monitor da 32. Ora il discorso è che essendo che da 34 ha un rapporto di radio diverso rispetto al monitor da 32 perché quello da 32 è un 16 noni classico e questo qua invece è un 21 noni, quindi se per esempio apri un video di YouTube ti fa le bandene di lato, c'è il metodo per togliere le bande ma ti stretcia l'immagine, cioè te la stira. Qui ho stampato due supporti per il telefonini che mi tengo sempre qua vicini a portate di mano. Qui ho messo una tastiera e un Asus K7 con switch ottici, mentre il mouse è il classico Logitech G502 Kiro. Qui invece ci sono importanti aggiornamenti sulla postazione, infatti ho voluto fare il Megalomane e ho preso questi tre monitor da 32, sono dei Samsung G5 da 144Hz compatibili con G-Sync, FreeSync, risoluzione 2K e sono curvi con una curvatura di 1000R. Forse non sono molto indicati per il sim racing, ma comunque ci dedicherò un video al riguardo. Un'altra upgrade che ho fatto sulla mia postazione è il frontale, è l'F-Pro della sim racing component. È molto rigido, è veramente un bel frontale e io l'ho dovuto cambiare perché nel disegno iniziale della mia postazione avevo profilato d'alluminio che erano montati con la staffa di SimLab, non mi sembra che quella era sì, comunque vi metto il link in descrizione, e purtroppo quando salivo e scendevo dalla postazione, andavo a sbattere con le gambe e partivo nei tanti. Per il montaggio di questi tre monitor ho utilizzato tre staffe VESA, molto comuni, molto economiche, che si possono trovare su Amazon, mentre per quanto riguarda il supporto dei monitor nel lato posteriore, ho utilizzato queste staffe ad L, angolate con regolazione, che ho acquistato dal sito Motelis. Un altro aggiornamento che ho fatto è il fungo per le stoppe d'emergenza del SimCube, è il tasto d'accensione e spegnimento, e la SimCube l'ho messa direttamente sul supporto del computer. Il supporto del computer è monitor, che è tutto unico, ed è quello che già conoscevate, e questo è il cablaggio più effettuato. Ho messo la ricchezza di cavo tutta sulla parte posteriore, anche quella dei monitor stanno qui sopra. Ho creato queste staffette particolari con la stampante 3D, che adesso vi farò vedere. Qua ci sono gli alimentatori del monitor, e questa è la mia bestia, un i9 con l'RTX 3080, 64GB di RAM. Questo è il mio classico SimCube che creo io. Ragazzi, lo so che vedete il SimCube che fa molta gola, però ragazzi, non contattatemi perché non li creo. Cioè, questo è un SimCube che ho creato l'estate scorsa, non si possono fare più perché le schede sono uscite fuori produzione, non si possono più creare, e attualmente l'unico metodo per fare un DD fatto in casa è il metodo con servocontroller cinesi ASD, oppure si può fare con VESC, ci sono tanti altri metodi, però SimCube ragazzi, scordate di questa schedina perché non è più acquistabile. E andiamo alla parte del laboratorio. Qui ho inserito la stampantina 3D, che mi fa regolarmente tutti i giorni bestemmiare come sadhana, perché un giorno funziona, l'altro no. Non è che non funziona, lei funziona, funziona sempre, ma per farla funzionare è molto complicato, infatti io sconsiglio proprio l'acquisto della stampante 3D, perché è una cosa che fa uscire letteralmente pazzi. E infatti qui sopra ci sono questi davi, antigioco, e vi ho spallerato un prossimo video. Questi due mobiletti, io li ho battezzati, per me sono i mobiletti della vergogna, perché sono sempre disordinati. E qui sopra, infatti, stavo costruendo un paio di cavi spiralati per un amico, e c'è sempre disordine qua, perché ho usato qualche componente, o faccio qualcos'altro, qua lo uso sempre come ripiano, come, diciamo, laboratorio. Però qua, prossimamente farò una bella pulizia, qua ci metto dei belli sportelli, così non si vede niente qua, se faccio qui dentro. stampantina laser, e sotto c'è un compressore, che dicono sia ultra silenzioso, ma invece qui dentro fa un baccano della madonna. Detto ciò, ragazzi, mi sono rimasti un bel paio di profilotti d'alluminio. se qualcuno servono, li vendo, ve li do alla metà di quanto l'ho pagata io. Vi metto le misure in descrizione, con anche i prezzi da dove li ho acquistati, almeno la metà, perché sennò rimangono lì a prendere polvere, non mi va. Detto ciò, ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, perché arriveranno un sacco di video, infatti ho in mente di preparare varie serie di video, una serie in particolare tratterà solamente di drifting, vi insegnerò come fare le derapate utilizzando il simulatore di guida. Io ho imparato con la macchina reale, e poi sono passato sul simulatore di guida. Vi posso assicurare che è più facile sulla macchina reale e non sul simulatore di guida, perché sul simulatore di guida ogni gioco è fatto a modo suo. Vi farò anche delle altre serie, vi spiegherò ogni componente della macchina, come modificarlo, come non modificarlo, e sono delle nozioni che vederò che sono valide sia per il simulatore di guida sia per la realtà. Vi darò anche altre nozioni per la guida in sicurezza, come affrontare le curve, eccetera, eccetera, sono tutti i video che usciranno e avranno una serie. Sicuramente farò anche delle live gaming in cui non giocherò al simulatore di guida, oppure giocherò anche al simulatore di guida, giocherò anche ad altri giochi tipo Tomb Raider, GTA, non so se creare un canale dedicato solo al gaming, oppure inglobare tutto in questo canale qua. Preferivo invece comunque fare un canale solamente con questi piccoli videoblog dove faccio spiegazioni di Arduino, come si collega questo, come si crea quello, come si salda questo, come si fa quell'altro, e creare un canale solo di giochi. Però fatemi sapere poi, anche nei commenti, se è meglio suddividere i canali oppure creare un canale unico con questa roba qui. Detto ciò ragazzi, iscrivetevi al canale, ovviamente lasciatemi un commento perché voglio sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!